Fungiatta, amici fungaioli, amici micologi, amici amici. Ho fatto merenda su questo tavolino, ora mangerò un po' di frutta. Questa bella giornata di sono, siamo a luglio 2016, voglio rinnovarvi il mio sogno, il mio pazzo sogno, perché i sogni che potessi realizzare, bisogna che siano pazzi. Sapete la mia passione sfrenata per la natura, per il bosco, per i funghi. Il mio sogno è sempre lo stesso, rimarrà sempre lo stesso fino a che non lo vedrò realizzato. Un bel museo dei funghi. Guardate qui che bel portavivante, via, chiamiamolo portavivante, che sono fatto, mi sono fatto un regalino. Il sogno è sempre lo stesso, magari far vedere questo sogno ad anche indiversamente abili, che non hanno la fortuna di poter stare in questi posti. Diciamo che per l'ora è un pochino difficoltoso, bisognerebbe fargli un percorso ad hoc e permettergli di godere di questo favoloso spettacolo. ora io vi saluto. Questa la mangio più tardi, mentre andrò alla ricerca. mi avvio. Un saluto a tutti. Grazie. Grazie.